Torniamo a parlare del terzo film, della leggenda dei guerrieri scarlatti, stavolta dedicandoci ai guerrieri scarlatti appunto, ovvero al trio di guerrieri che combatte agli ordini di Abel. E questi tre guerrieri sono chiamati guerrieri scarlatti perché in origine le loro armature erano quasi completamente rosse, in diverse sfumature di rosso, quindi scarlatte. Questo è qualcosa che è stato evidenziato da alcuni design, da alcuni poster promozionari usciti sugli artwork, ma evidentemente in seguito, in fase di produzione, si decise di cambiare questo dettaglio e quindi diciamo che il guerrieri scarlatti del titolo è venuto un po' meno. Tant'è vero che poi il film è più spesso noto come la leggenda del ragazzo del sole. Fatto sta che questi tre corona saint, ovvero Atlas, Zhao e Belenice, sono tra i personaggi più potenti a parassi nella serie classica di Saint Seiya. Infatti, nei libretti del Blu-ray e negli artbook, viene apertamente indicata la loro superiorità rispetto ai cavalieri d'oro. C'è una famosa scena che ho già commentato in un altro video della sconfitta di Capricorn Aquarius e in seguito del sacrificio di Gemini, che serve proprio a far capire allo spettatore che questi tre sono persino di un'altra pasta rispetto ai gold saint. Come ciò sia possibile, dipende un po' dalla loro origine. Questi tre personaggi, infatti, sono ufficialmente categorizzati come saint. Sono chiamati in originale corona saint e saint, come sappiamo, vuol dire sacro guerriero, che è un termine tipico, normalmente, dei cavalieri della dea Atena. Però, questi tre personaggi non sono fedeli ad Atena, sono fedeli ad Abel, e le ragioni di questo cambiamento non sono mai state completamente chiarite. Presumibilmente, e sono legate al fatto che, quando il terzo film venne concepito, venne creato, la serie era ancora verso la fine delle dodici case. Sappiamo che la creazione del film è più o meno parallelo ad Asgard, e quindi, in quel momento, non esistevano ancora caste di guerrieri al di là dei saint. Magari era stato già introdotto qualcosa dei marine, dei generali degli abissi, però ancora non si sapeva niente di caste di guerrieri diversi dei saint. Per cui, a parte i god warriors, che però erano stati creati espressamente dall'anima, fino a quel momento si erano visti soltanto sacri guerrieri, soltanto cavalieri, e quindi si decise di fare anche di questi tre dei cavalieri, spiegando però che la loro fedeltà era appunto ad Abel e non ad Atena, e che le armature che indossano le sacre vesti della corona furono forgiate da Abel al tempo dell'epoca mitologica, e sono superiori alle armature d'oro, d'argento e di bronzo dei cavalieri normali. In un altro video abbiamo ipotizzato se queste armature potrebbero essere tre delle quattro famose armature di materiale sconosciuto, ma è qualcosa per il quale non c'è una risposta ufficiale. I tre guerrieri di Abel sono appunto Atlas, Berenice e Zhao. Atlas è chiaramente il leader del gruppo, il più potente, dovrebbe essere quello il cui colpo ha il maggior potere distruttivo, visto che negli artbook dicono che è espressamente la sua tecnica quella che frantuma e distrugge le armature d'oro. Il suo colpo segreto, come sappiamo, è il Burning Corona, che nel corso del film viene utilizzato per distruggere l'armatura della Fenice, l'armatura di Pegasus, insomma un bel po' di corazze. Poi c'è Berenice, Berenica, il cui colpo segreto è That Golden Hair, e i capelli della chioma di Berenice, che ricordano in qualche modo i fili di Mime, di Minos e così via. Non sappiamo se Kurumada si sia ispirato a lui per il design di quel tipo di colpo segreto di Minos o se sia soltanto una coincidenza. E poi c'è Zhao, Zhao della Lynch, il cui colpo segreto è lo Shining Hellclaw o Artiglio Luminoso nel doppiaggio italiano, che è, come vediamo, se la gioca più o meno alla pari con Gemini. Ed è interessante una nota che c'è nel pamphlet promozionale di questo film in cui viene sostanzialmente detto che Zhao è il più debole tra i tre, ma è comunque più o meno pari a saga, il che diciamo che rende abbastanza bene l'idea di quanto devastanti possano essere questi personaggi. A livello di design, mentre nei primi due film Kurumada aveva collaborato disegnando praticamente tutti i grossosanenti del primo e Alex, Natasha, Rocky e Baldr del secondo, invece questi tre personaggi sono interamente opera di Araki, non hanno niente a che fare con i personaggi kurumadiani. E questo è reso poi evidente anche dal design delle armature. Infatti Kurumada tende a disegnare armature più massicce, più, da un certo punto di vista, realistiche, nel senso che ovviamente hanno sempre un aspetto molto fantasy, però sono comunque delle armature con un certo spessore. Al contrario, Araki tende a disegnare armature molto aderenti, quasi più simili a tute che non a corazze vere e proprie, e questa è una scelta di design che poi ritroveremo anche, per esempio, nel Tenkai Oversure, nel quinto film, con gli angeli di Artemide. Inoltre, sia Atlas che Berenice indossano una veste sopra l'armatura, cosa che Jao non ha. E questo è qualcosa che viene evidenziato anche negli artbook, nei vibretti, come una particolarità che differenzia Jao dagli altri due e che serve un pochettino a indicare che è quello con il carattere più focoso, più ribelle, più anticonformista del trio. Certo, è un dettaglio molto così anpassant, però è comunque un elemento di caratterizzazione carino da notare. Sempre per quanto riguarda Jao, un'altra curiosità è che in origine avrebbe dovuto combattere contro Sirio. Infatti, sempre nel materiale promozionale, in cui avevano armature rosse, si vede Crystal contro Berenice, Pegasus contro Atlas e Sirio travolgere Jao con il drago nascente. Quindi, in una prima versione del film, Sirio avrebbe combattuto contro uno dei tre. Evidentemente, l'idea venne poi accantonata, magari introducendo i Cavalieri d'Oro. Infatti, Sirio, come sappiamo, combatte soltanto contro Cancer nel film, ma poi non ha nessuno scontro uno contro uno contro i nemici principali, contro i Corona Saint. Viene prima sconfitto all'improvviso da Berenice, poi partecipa alla battaglia contro Atlas, ma sempre al massimo mangia un colpo segreto da solo, ma diciamo che non combatte mai, prevalentemente da solo, contro nessun corona. Tutti e tre i Cavalieri della Corona hanno una costellazione, dichiarata ufficialmente. Nel caso di Atlas è la Carena, che è parte della costellazione più grande della nave d'Argo, poi per Jao c'è la Vince e per Berenice c'è la Chioma di Berenice. Queste costellazioni, nel caso di Carena e Chioma di Berenice, non verranno mai utilizzate nel corso di nessuna serie dei Cavalieri. Al contrario, la costellazione della Vince viene utilizzata in Episodio G per Retsu, che è un Cavaliere di Bronzo. In realtà, anche se Chioma di Berenice non compare in nessuna serie, compare nel romanzo Gigantomachia come costellazione di Mei, del Cavaliere, di una delle armature di Rango Sconosciuto. Quindi, a seconda che si voglia considerare o meno il romanzo, diciamo che una o due di queste tre costellazioni sono poi ricomparse nella serie, senza che venisse fatto alcun riferimento a film, perché comunque il film, ammesso e non concesso che sia in una qualche continuity, sarebbe nella continuity dell'anime e sicuramente non in quella di Episodio G o dei romanzi. Un'altra particolarità che riguarda questi tre personaggi è che, in quanto Cavalieri di Abel, tutti e tre sono legati in maniera più o meno diretta al sole. Nel caso di Atras il collegamento è più evidente, visto che il fuoco della corona crea una sorta di riproduzione della corona, del sole appunto, e il colpo stesso è una specie di astro fiammeggiante, un sole che viene lanciato contro un nemico. Nel caso di Jao abbiamo un cosmo fiammeggiante, un cosmo rossastro, che in italiano, come detto, si chiama Artiglio Ruminoso, come in originale Shining Hellcrow, richiama comunque le fiamme d'inferno. Il più interessante però è Berenice, che quando viene inizialmente imprigionato dai ghiacci di crystal, rifrantuma dicendo che è impossibile congelare il sole e che le loro armature, essendo state forgiate da Abel, contengono a loro interno l'immenso potere, l'immenso calore del sole. Ora c'è da chiedersi se ciò sia un qualcosa che può aver ispirato Clumada durante la famosa scena del muro del pianto, quando per abbattere il muro è necessaria la luce del sole e i carrieri d'oro uniscono le forze, perché loro sono le dodici costellazioni lungo il percorso che il sole compie durante l'anno. Ecco, in questo caso sarebbero state utili l'armatura della corona, quindi chissà che non ci sia un piccolo riferimento, almeno una piccola fonte di ispirazione, circa l'utilizzo del sole per quella scena. Nel complesso comunque, nonostante questo sia il film, dà un minutaggio più lungo e che dà il maggior approfondimento ai personaggi, questo è un approfondimento di cui non hanno goduto più di tanto questi tre. Il grosso del lavoro viene fatto su Seiya, sui protagonisti, nel caso di Saga, sui cavalieri d'oro, sull'importanza che Isabel ha per tutti loro, ma questi tre nemici, tutto sommato, non lasciano mai troppo il segno, almeno dal punto di vista della personalità. Sono sicuramente devastanti per quanto riguarda i poteri, però ecco, non sono memorabili come uomini, e il fatto che siano soltanto in tre, diciamo che non gli lascia neanche da dire. E quindi ecco, questo era quanto, questo è un po' quello che sappiamo su questi tre cavalieri della corona. Cosa ne pensate? Sono personaggi che vi piacerebbe rivedere o che vi sarebbe piaciuto venissero approfonditi un po' in più? Avevano del potenziale? O vi avevate già tranquillamente rimossi? Scrivetelo come sempre nei commenti qua sotto. Da me anche stavolta è tutto. Alla prossima, ciao!